sempre su questa china dell'energia il PNRR è essenzialmente dedicato anche molto all'energia green e in questo momento qui sappiamo bene che l'energia green è utilissima ci servirà nella prospettiva a lungo termine ma nel breve non riesce a alimentare per esempio tutte quelle grandi aziende che sono energivore la ceramica grandi fornaci per esempio non vogliamo perdere delle eccellenze italiane per esempio questa che c'è qua ad este che produce ceramiche bellissime fatte a mano eccetera eccetera il PNRR riusciamo in parte a convertirlo e utilizzare dei fondi per quanto riguarda estrazione di gas rigassificatori o altro ancora? Il PNRR è sicuramente una grande opportunità certo le aziende energivore hanno bisogno di risposte oggi la ceramica la carta il vetro l'acciaio tutte aziende che sono un fiore all'occhiero del paese che muovono pil importanti che danno migliaia di posti di lavoro che sono a rischio come non mai in questo momento di crisi energetica e con le rinnovabili non ce la fanno da sole tra l'altro le rinnovabili non hanno bisogno di soldi in più perché ci sono un sacco di fondi di investimento di natura privata che sono a disposizione perché oggi come dire all'interno c'è problema opposto greenwash va molto tra anche la finalza finanza dire di investire in rinnovabili quindi ci sono soldi ci sono progetti ci sono competenze ci sono know-how ci sono capacità di ingegneria italiana cosa che non c'è come sempre non ci sono i permessi a costruire perché in Italia anche anche sulle rinnovabili siamo ancora fermi al palo perché troppe regioni alla fine dicono di no perché c'è qualcuno con non va bene la paleolica perché qualcuno non va bene diciamo coprire magari larghe superfici con dei pannelli fotovoltaici e siamo quindi sempre da capo però col PNRR è giusto anche incentivare forme per esempio di energia sul nucleare io dico su questo io sono un nuclearista convinto però con grande pragmatismo dico che oggi se l'Italia iniziasse oggi a fare una centrale nucleare vediamo tra 15 anni quindi ci mettiamo troppo non è una risposta per l'oggi però possiamo avere l'ambizione di tornare ad essere protagonisti sulla ricerca nel nucleare avanzato siccome sulla ricerca della famosa quarta generazione ancora ci sta lavorando dobbiamo agganciarci e provare a tornare protagonisti su questo filone come anche draghi si è espresso fra l'altro in favore come anche sulla fissione non sulla fusione esatto 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 che sono proprio l'avanguardia diciamo delle nuove energie quindi io credo che anche il PNRR vada utilizzato in maniera molto attenta non per inseguire ideologie spot ma per lo ribadisco perché ci credo molto un ambientalismo maturo che veda un patto con l'industria cioè io credo che i risultati ambiziosi di abbattimento della CO2 di inquinanti lo si raggiunga non con un approccio ideologico ma con un patto che veda il protagonismo delle aziende le aziende sono pronte non vedono l'ora magari hanno bisogno però all'inizio di un'accensione di un aiuto con la leva pubblica per poter andare verso la direzione di marcia giusta viceversa un approccio sbagliato cito per esempio il caso dell'automotive è quando l'Europa e noi Forza Italia e il PPN ci sono fortunatamente io sono d'accordo nella posizione che abbiamo preso dette contrarie a quella decisione che ha detto al 2030 basta motore combustione nell'automobile ma non è pronta la filiera tra l'altro facciamo un favore alla Cina e alla Russia perché le materie prime con cui si è fatti i motori sono soprattutto là ammazziamo migliaia di posti di lavoro nel nostro paese una scelta ideologica che non risolve i problemi ambientali ma che ne crea tanti reali oggi a troppi lavoratori è evidente sono molto d'accordo e... è evidente che ci sono stati reali oggi sono stati reali oggi sono stati reali oggi